Sonsi, è bello avervi grì Sonsi, tra le mie braccia amore Sonsi, è bello avervi grì Sonsi, è bello avervi grì Sarivare Sospare, l' америкantè Non ti tifurè, parliamo di noi Gesù Non ti tifurè, che magica altra sera Che c'è forza sera Sarivare Sospare, l'ambiente Del mondo fosse un anno ogni c'è rubo Oggi rimangerei la mela del peccato Orti e vola il tuo vestito us성을 Amore non ti non vale Vembe non imparati se c'è me a noi So si, tu non vogliamo più sempre di 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 Non si chiuda, ma non Piazzotta di Piu Non si chiuda, abbiamo vinto la notte Il nostro prorogno Sarapare il sale, non si chiuda, vi succo Il mondo detto i nuove manteggio Il tuo mando su Stitcherciano le mie Stitcherciano le mie Nell'aria Il nostro prorogno Sarapare il sale, non si chiuda, vi succo Farapare il sale, non si chiuda, vi succo Il mondo veut Amore così, amore così, amore così non vale Per venuti in paradiso insieme a noi Sonsi, non vogliamo più sermenti Sonsi, per venuti in paradiso Finché fossi una soglia Non mi sento molto bene Non mi taglierò le vene Mi serve una trasmissione da vedere In punto di morte Sono a casa in cadene Gli altri escono tutti insieme Ecco un podcast in azione Che prezzo cambia la mia sorte C'è il vero Pop 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 podcast Cerbero Pop 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 podcast Troppi goblin in questo mondo Non sarò Pop 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 podcast Marranichi risceide be Lei murla rana 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 C'è il vero Pop 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 podcast Ma che stai a fa' Ricordate che i squali Stanno arrivare Stanno arrivare Hello Closhard E benvenuti in questa nuova Trasmissione Iniziamo con la bomba Grande Sergio Mamma mia troppo forte ragazzi Ma col pugno è volato pure il microfono Ma ragazzi scusate Scusate E giustamente qua il nostro artista Gli è stato sfilato il microfono Quindi un attimo Silenzio Prego maestro Allora salve a tutti amici Qui si inizia con questa bellissima live di Twitch Si inizia direttamente Perché sono ospite Dei miei carissimi amici Che bello E fin dei conti Qual è il problema? Ma questo non è un mio problema Ma è un grande problema Perché noi Nonostante di questo grande Il nostro grande problema Perché facciamo pubblicità? No Non facciamo pubblicità Perché è l'Eurospin Ma questo Non è un mio problema Oh yeah Sì Vabbè Siamo su questo canale Ma che ce frega Ma ci vogliamo divertire Oh yeah E lui legge Vabbè Che me frega E lui si fa la lettura Vabbè È un amico Vabbè Se legge il giornalino Ma che me frega Tanto io vado avanti Oh yes Oh yes Grande Grande maestro Un applauso Un applauso Ragazzi Fuori per il maestro Sergio Cadena Grande ritorno Grande ritorno Siamo contentissimi Anche un regalo Davide Tre regali Un magnifico quadro No Quattro regali Allora Intanto presentiamo anche Meliador Che investe Ciao Meliador Buonasera Buonasera a tutti Questo è il mio carissimo quadro Che ho fatto una dedica Ai miei carissimi amici Che vogliono molto bene Perché è della mia famiglia Family 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 C'è davvero Ah c'è una dedica dietro Aspetta Inquadriamo Allora Questo è un augurio Allora Questo è un augurio speciale Dal vostro amico speciale Sergetto Per augurarvi fortuna E per la vostra attività Sherber Podcast Sergio Cadena Oh yes Grazie Sergio Questo quadro Andrà nella stanza apposita Della musica Esatto esatto L'abbiamo pensato qua Mettiamo la cam Nella sala musicale L'abbiamo pensato Qua Ve lo farà vedere Davide Ci sta Ci sta Così almeno Farà parte Della stanza musicale E non solo Perché ci hai portato Anche dei tuoi Dischi Che infatti Vorremmo che tu ci racconti Quella è una canzone Molto molto particolare Perché Fin dei conti Quella è una mia Creatività Che ho creato Da solo L'ho dovuto farlo da solo Perché sennò Io non so più come fa Vabbè Sì Ho il margino Eh sapessi Sapessi Se fosse luce Allora Avrei visto qualcosa Questi cd Non andranno a sostituire Non andranno a sostituire Il ruolo che aveva il cd di Metal Car Questi sono Sono doni Che conserveremo Gelosamente Comunque Ragazzi Oggi siamo qui Non solo per una rimpatriata Con i nostri amici Mick Simone Addirittura Cioè Ma Per testare L'incredibile gioco Di Marco Montemagno Marco Chitano Inquadriamo Inquadriamo Ah questa è Inquadriamo Inquadriamo Il gioco di Marco Montemagno Eccolo qua Start Come vedete L'abbiamo messo all'ombra Perché ci teniamo molto Crea anche tu La tua start up Nel gioco del capitalismo Chiunque può vincere Ora Il problema è Come cazzo si gioca A start Di Marco Montemagno Abbiamo qui l'esperto Di giochi Meliador Da quando è arrivato qui Non ha fatto altro Che capire Come funziona Questo gioco L'avete visto Durante l'esibizione Assolutamente Si è assolutamente L'opio Pur Adol Eh no ma se poi Devono giocare Ma Volete che Eh non lo so No 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 dico Volete che mi metto Sì facciamo un piccolo cambio Così almeno Entrambi gli ospiti Riescono a parlare In totale libertà E Sto regolando Di conseguenza Quindi tu che Torni qui Ok Ok si Metti di qua Per giocare Beh è un casino È perfetto Ma che cazzo vuoi? Io ho paura Quello che sta accadendo qua Io ho paura per la mia salute È intrattenimento Cioè potrebbe morire Chiunque Da un momento all'altro Più intrattenimento Vabbè Mettiamo di là Eccoci qua Ora è il momento in cui Meliador ci spiegherà Le regole che ha studiato Nell'ultima settimana Nell'arco delle ultime giorni Senza sosta Come uno scolaro proprio Marco Montemagno Guardati le spalle Direbbe un gran count autore Grandissimo A noi Montemagno Guardati le spalle Perché ruberemo il tuo lavoro oggi No no Possiamo dire che non ci ha pagato Per la nostra iniziativa Purtroppo no Che non Riceviamo un euro Io posso dire che questo gioco E questa live È un meme finito male Vedremo Vedremo Sicuramente è un meme Un meme che ci è sfuggito di mano Leggermente Dopo Shadow Legend Il Cerbero Comprò il gioco di Marco Montemagno Ma soprattutto Io Cioè Credo che in questo momento Gli unici influencer Che abbiano mai pubblicizzato Questo gioco Siamo noi A gratis Nostro malgrado Senza un euro proprio Siamo dei coglioni assoluti Però va bene così Tanti nemici Tanto onore Lord Meliador Ah Era tuo Questa cheat Bella Bella No forse no Allora Canepazzo L'ho sentito stamattina Ne parlavo oggi con Canepazzo L'ho sentito stamattina Perché Stiamo lavorando Anche con il suo supporto Soprattutto grazie al suo supporto Eccolo di Jacopo Ovviamente Ad un gran placement Stiamo girando una clip Una sorta di spot pubblicitario divertentissimo Mi ha detto che sta un po' meglio Ma ancora un po' Malaticcio Quindi Sì oggi Mi è durato abbastanza Sto cazzo De malanno Infatti lui si sente che il molecolare di oggi Darà di nuovo Il covid Il covid Anzi positivo Speriamo bene Incrociamo le dita per Canepazzo Eccolo qua Ma chi è un mariachi Che è Canepazzo A Sergio immagino Sergio se vuoi rispondere a Canepazzo Al microcola Sei un mariachi È un gioco Vediamo com'è questo gioco Perché sono curioso La curiosità È una curiosità È una curiosità Allora Meriador In cosa consiste questo gioco innanzitutto? Allora Grande Jakobotz La squadra del Cerbero Dovrà creare una start-up Ok Ok Di conseguenza Il nostro obiettivo È comunitario Non è come l'Uvus Non vince alcuni E perdono altri O vinciamo tutti O perdiamo tutti Però In quadratura su Meriador Attenzione È un po' pericolosa Per le ragazzette Mi ha arrapato Eh sì Ma anche per i ragazzi In realtà anche quelli etero Cioè È pericolosa In questo capitalismo Però vincono tutti O perdono tutti Eh effettivamente È poco capitalistica Ok Perché se perdi E finisci sotto un ponte È colpa tua Ricordiamo Sì Perché hai fatto male Le tue scelte Al 90% Come disse il buon Ale Eh Ma Allora Ok Quindi dobbiamo creare tutti Assieme una start-up Esattamente Esattamente Ok che cazzo è una start-up Prima domanda Un'azienda Quasi esce dal mio campo Un'azienda Diciamo che Sì Una start-up è Un'idea Di un progetto Che possa portare Degli introidi Al Al team Cerbero Quindi abbiamo vinto Noi abbiamo già Abbiamo già fatto Questo gioco Con la vita reale Con la sdrubalini Possiamo accadarcene Ma magari Tra gli obiettivi C'è creare la sdrubalini SRL Ah Perché Potrebbe essere Ok quindi abbiamo Un obiettivo comune Perfetto Questo già è molto buono Verranno messe All'inizio della partita Tre carte obiettivo casuali Un tabellone E Quelli sono gli obiettivi Che noi dobbiamo riuscire A portare a termine Per poter Concludere Al meglio La nostra startup Ok Allora ogni obiettivo Che vediamo Se si vede Bene o male Sì Ha un punteggio Qua sotto Ok Se noi riusciamo A completare l'obiettivo Prendiamo quei punti Ok Alla fine della partita Si sommeranno tutti i punti Che abbiamo fatto Tramito obiettivi O altri eventi Sì E c'è una classifica Stilata da Montemagno Che ti dice Quanto fai schifo A creare le startup Ah Bene Interessante Un po' di mansplaining Non ve la spoiler Non ve la spoiler Non vi voglio creare Impressioni Sarà la parte più interessante del gioco Secondo me Blastare le cazzate di Monti Ok Ovviamente Ovviamente ogni obiettivo Quanto è un lavoro vergognoso Da 1 a 10 Ogni obiettivo Ha una Diciamo un disclaimer Quindi noi lo leggeremo Non pianga Sergio Perché ovviamente A seconda degli obiettivi Per completarli C'è bisogno di skill diverse Ok Le skill sono questi gettoni qui Ok Dico problem solving Esatto Qua siamo un po' Tutti quanti esperti Di problem solving Esattamente Ci sono 6 Gettoni diversi Sei Sergio esperto Di problem solving Ammazza dei quanti soldi Grazie Jacopo Grazie Jacopo Ok Problem soldi Diciamo che non ce ne stanno Problem soldi Non ce stanno dei problem soldi Chi punta 10 No Punto 20 No ma quale 20 Punto croce Ma io voglio punta Mille Mille Bravo Siamo sulla stessa lunghezza Jacopo Grazie Ma quanti ne ha donati Già Sta fondando lei la start up Proprio Grande Jacopo Quindi Le skill I 6 gettoni Rappresentano Skill comunicative Organizzative Intelligenza sociale Qualsiasi cosa Significhi Pensiero laterale Pensiero strategico E capacità di analisi Quale abbiamo tutte Non ci facciamo mancare niente Quindi sarà proprio Capacità di analisi Sì esatto Inoltre abbiamo I gettoni Montemagno I gettoni I gettoni Montemagno Sono dei jolly Che riusciremo ad avere Facendo Alcune Pregando Montemagno Ad esempio Montemagno Tu che sei nei cieli No Metaforicamente parlando In senso come Superiorità Umana È nell'Olimpo È nell'Olimpo Delle start up Si erge su altari Faticenti Che non gli competono Allora voi dovete Sapere questo Possono confermarlo I miei colleghi Prego Prego Noi Per scegliere I due partecipanti Di questa live Abbiamo fatto una call Di due ore Delle selezioni Molto dure Esatto Livio ha perso Al primo turno Perché volevamo Volevamo due facce Della stessa medaglia Sì ma infatti Secondo me questa Sarà candidata Come best coppia Al Boscar Assieme a Canepaz E Sergio Catena Prego Prego scusi Buona pace per lì Francesco vorresti Sergio come spalla Sergio vorresti diventare La spalla di Francesco Francesco poi Sergio come spalla Per tutta la vostra vita Assolutamente Ma ti fate quello Che me chiede Io prendo A scatola chiusa Parla bene al mic Sergio se non ti sentono Ok allora Diciamo I jolly Montemagno I jolly Montemagno Servono in determinati Soprattutto quando non avremo Le schiene necessarie Io ho già bagnato Aspetta Sergio Se non capisco un cazzo Compenseremo con Montemagno Ti manca una cosa Arriva Montemagno E salva il giorno Ma funziona così Pure nella realtà Tipo Mi puoi farci Che ne so Montemagno Vorrei il tuo jolly 50k per i boscar Ci dai una mano Se può fare così Secondo me Secondo me sì Dai credi nel boscar Gli porti questo E lui Sì Vabbè ok Arcioli io ho butta Marculo Vero te E' un sogno lucido Sta live Ma io guarda Ok Su questa live Ci ho appuntato Fin dall'inizio Poi a testimoniarlo Simone Io ero Veramente casatissimo Per la live di questa serie Non vi dimenticate me Io non me conosco Però siamo tutti Una famiglia E certo Famiglia Ok Perfetto Quindi abbiamo detto Skill Obiettivi Jolly Jolly Esatto Allora la prima parte del gioco Ci verrà messa davanti Una specie di problema Che noi dovremo risolvere Cioè Prenderemo Per sei volte Due situazioni Si chiamano E le situazioni Saranno cose Perché ne so Questa qui Hai un colloquio di lavoro Per una nuova posizione Che ti interessa molto Sei agitato E preoccupato Per le domande Che i recruiter ti faranno Nonostante ciò Ti prepari per gestire la situazione In modo sicuro E spigliato Ok Dicetera Questa è un'altra Noi insieme Prenderemo a decidere Su quella che ci sembra Più utile a noi In base agli obiettivi Facciamo a voti? Sì sì Faremo a voti Faremo a voti Per decidere Per decidere Perfetto Siamo cinque Quindi è perfetto Molto buono Così almeno Non c'è una parità La pregata qual è? Beh Chissà qual è la scelta giusta Le molesti alla moglie ovviamente Molesti la moglie del tuo capo Ok E poi io Butti al culo Vai a sfondamento Ok Perfetto Allora Detto ciò E quando sceglieremo Una delle tue carte La giriamo Sì E dietro Ti dice cosa fai Ad esempio qua Analizzare la situazione A individuare una strategia efficace Per superare i timori E mostrare la parte migliore di te E ti dice Che skill ottieni In che si analizza Ok E skill E skill Ok Prenderemo dei gettoni Che variano a seconda Di quello che c'è All'interno della carta Ok In questo caso Prendiamo due gettoni viola E uno blu Ok Buono Buono Molto buono E li mettiamo Nella nostra riserva Noi iniziamo con tre gettoni di ogni tipo Poi dobbiamo aumentarli Risolvendo queste situazioni Perfetto Una volta fatto questo Si passa Vai Si passa Alla seconda fase Che è quella in cui Tramite le skill Noi reclutiamo dei professionisti Ok Perché noi siamo quelli che Ci mettono la testa E i sordi E i sordi E loro sono i professionisti Che noi paghiamo Tramite le skill Ok Quindi ci verranno messi davanti Dei professionisti Saranno dodici Tipo che ne so Il Data scientist Ok Il social media manager Tutti questi mestieri Non vogliono dire nulla Edutatch expert Non esiste No Non esiste Mai esistito proprio Mai Crypto developer Mai esistito Ok Non esistevamo nel mondo Immagino Immagino che ci siano Le professioni del futuro Montemagno ha voluto Prevedere L'evoluzione del mondo Ok E quindi noi sceglieremo Quelli che ci sembrano più Adeguati A risolvere i nostri obiettivi Perché gli obiettivi Accanto al punteggio Hanno Quattro simboli Quelli sono i simboli Che noi In teoria Dobbiamo Prendere in considerazione Per risolvere l'obiettivo Perfetto Ok Quando poi Lo risolviamo Si gira l'obiettivo Si gira l'obiettivo E Vengono Fatti vedere Delle nuove skill Ok Ok Noi continueremo a giocare Fintanto che riusciamo A risolvere Obiettivi Ok Nel momento in cui Non abbiamo più le skill Per farlo Finito il gioco Si contano i punti E Si capisce Quanto abbiamo fatto schifo Ok Dai ci siamo Ci siamo Sono carichissimo Meno male che c'è Livio Marcone Ma noi andate a di però No no Per carità Non vorrei Sergio vuole fare un riassunto Ma complicata la vita Vabbè Ma la domanda Ma come si inizia Con questo gioco Dai dai L'appetito Viene mangiando No Forza Perché uno è curioso Capito Perché è una cosa Si Ha curiosità La buona banana No grazie La banana La banana È l'unico frutto Dell'amor E la banana No Del mio Attento Montemagno Copertina del video Aspetta Primo piano Primo piano Aspetta Meliator Butta la testa indietro Vai Punta 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 Oddio Rifallo Rifallo Cambio fuoco Tra la banana Ma perché C'è un fail Ah si è sentito Ma non l'abbiamo sentito noi Va bene Ci siamo Siamo pronti Per iniziare Prontissimi Provate a credere Sentiamo Quando risolvi un obiettivo Lo giri Qui Ci sono delle skill E ci sono C'è un singolo Professionista Noi dobbiamo avere Quel professionista Per riuscire a completarla Se non ce l'abbiamo Arriva a Montemagno Ah ok Ottimo Quindi finché abbiamo Montemagno È tipo Gesù È tipo l'uomo nero Esatto Ovviamente È meglio avercelo Perché i Montemagno Sono rari C'è tutte le skill Tutto Il demurgo Montemagno Poco ecocentri Come dicono Grazie Fabiolone Grazie Fabiola Che ci supporti Grazie Andiamo Andiamo Siamo carichi Ok Mischiamo le carte Dai Questo è un momento Molto deso Come ti senti Sergio? Ci può suonare una melodia Col flauto Intanto che aspettiamo Vabbè Non sta a mischiare Eh Vabbè Dai È proprio La musica adatta Grazie mille Grazie mille Grazie mille Anche per i mille bit Mille cheer Grazie mille bit Mille bit Grazie Sicchi Yumemi Requisiti Io ho requisiti generali Piccola azienda Ok La start up È una boutique Finanziare a volta Creare e sviluppare Sistemi di pagamento Digitali Ed innovativi Per poi controllare La popolazione Ed ho sei Un sei qua Io non c'ho niente Sono sei punti Ho sei punti Ed ho A caso Ma c'è Gianluca Una boutique Prego Sergio Prende la carta No no Sono tre Ah sono tre carte Ok allora Leggo la mia Obiettivo Start up Development And wellness Development 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 And wellness Creare una società Che investa fortemente Per offrire Alle proprie risorse strumentali Approcci e metodologie Più evoluti Per garantire Lo sviluppo migliore Di ognuno Cioè Tutto generico Poi c'ho sei Con quattro skill Vabbè Doleggia mia Obiettivo Requisiti generali Risorse global Riunire le migliori menti Anti hacker Da tutto il mondo Per creare un'azienda D'avanguardia Nella protezione di dati Tipo NordVPN Quello che vedi in alto A destra Sì E informazioni aziendali Da attacchi informatici Tipo un firewall Vabbè Questo è comprensibile Dai NordVPN Scegliamo questo Danemele qua Prego Mettiamo qui davanti Prego Quindi sono Queste sono Fisse Queste sono Le start up Che dobbiamo riuscire A creare Per portare a termine Diciamo il nostro progetto Ok Quindi inizialmente Grazie Non la devi per scapare Sergio Non ho capito Sono tre inizialmente Ah tre e tre Sono tre Ok Allora noi abbiamo Tre gettoni Di ogni tipo Inizialmente Che serviranno appunto Per comprare i professionisti I professionisti Si possono usare Massimo due volte A partita Ok Quindi ci sono Queste clessidre Che vengono messi Sui professionisti Alla seconda volta Deve andare in vacanza Ok Che l'avete fatto Laura troppo Però Noi non sappiamo Qual è il professionista Giusto Dobbiamo capirlo Dalla start up Certo Dall'obiettivo E quindi noi dobbiamo Essere bravi A mettere A priori Il professionista Giusto E una start up Giusta Ok Certo Ma vi ha pagato Come abbiamo fatto Noi con Marco Chitano Esattamente Esatto Inituare le giuste skills Ed inserirle Per migliorare l'azienda È giusto Per la regia Molto giusto Perfetto Allora adesso cominciamo Cominciamo con le situazioni Quante sono le situazioni Sempre tre Allora Ah no Sono Sono sei volte Due di cui una La scelta Ok Allora Le prime due situazioni Tra cui scegliere Prego Simone atteso Ok Prima situazione Devi dare Un feedback negativo Ad un collega Che ha seguito Parte del tuo progetto Prepari con cura L'approccio E la comunicazione E le proponi Un pranzo riservato Nel suo locale preferito No Ok È sempre il solito Simone Chi è che ha fatto niente Chi è che propone sta cosa È una scelta Vediamo Vediamo Oppure Dal primo gennaio diventerai responsabile del team di cui fai parte Proponi subito una riunione ai colleghi per superare gli imbarazzi Definendo regole ed obiettivi Definendo regole ed obiettivi e poi li sorprendi con un invito per un aperitivo Ok Allora io farei scegliere a Sergio Prego Per questo primo turno Aperitivo o cena nel localino? Aspetta Aperitivo per È un po' ridotto insomma Aperitivo per tanti o cena privata con uno? Ok Fai figli e figliastri Va bene Hai dimostrato professionalità e cura per la collega Abbiamo buttato sul giusto cavallo Grande Sergio Grazie Dedicando Dedicando Attenzione Alla preparazione del feedback Ok Guadagniamo Guadagniamo Due skill comunicative Bene E una skill di pensiero strategico Top Wow Bravo Sergio Grande Grande Amma a vedere Che fenomeno Aperitivo magari era peggio Eh può essere Sera aperitivo allora che era Sera aperitivo È tipo The Sims Regà Cioè palesemente quando stai a lavoro a The Sims Ti si presentano due o tre scenari E devi scegliere Alcuni magari sono Cioè non lo diresti mai Che ti portano invece a una promozione Ovviamente è un gioco assolutamente non skill intensive È totalmente casuale Sì È forse totalmente una merda Ma lo capiremo tra poco Sì In teoria In teoria quello che c'è scritto qua È che tu dovresti capire Dalla descrizione Quali skill riceverai Ok In base a quelle che ti serve Cioè qua ad esempio a noi Che ci servono? I sorti Allora qua abbiamo Giustamente Una risorsa global Con gli hacker Quindi probabilmente Ci servirà Qualche tipo di capacità di analisi Certo Probabilmente sì Un analista Un proctologo E development E wellness Non lo so Secondo voi che ci serve? Beh wellness Un bel wellness Non è male dai Fitness and wellness Quali sono le figure a disposizione? Cioè diciamo a boutique Puntiamo su una wellness Sì Allora questa Sapevo manco che demo fa E' una cosa anti hacker Io una cosa Io tipo un firewall Vabbè ho capito Le vostre non mi ricordo bene Io sono a boutique Una piccola azienda Io ho il nulla proprio La descrizione del nulla Tutto è nulla proprio Ma come? Sì 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 Va bene Va bene Comunque sia Seconda scelta Sei in video call Con un cliente Che ti chiede Di condividergli lo schermo E vai Prima stavi guardando un video E ti si è bloccata la schermata Ok Decidi che il tuo pc Sta funzionando male E non riesci A fare l'opzione Condividi Oppure Ho un problema con lo schermo La figura del boomer Insomma Desideri chiedere Tre settimane di ferie Per fare un viaggio Ma essendo entrato Da poco in azienda Non hai accumulato Abbastanza giorni Mi confronti quindi Con i colleghi Per capire come Si organizzano E come gestire la richiesta Vai Simone Scegli tu ora Ma è difficile La prima La boomerata La boomerata Ok Ma ben giro Non bisogna andare in ferie Ma si ma poi è appena arrivato Ma che figura del merda fai Che cazzo fai Ma poi tu arrivi E poi chiedi tre settimane E ti cacciano via Oppure ti odiano Assolutamente no Ti metti contro la gente E poi non è professionale Comunque posso dare una notizia Tragica E' morto il grande Bogdanovic No No F in chat F in chat Purtroppo Mamma mia Leggetevi la sua intervista Il suo libro Intervista a Orson Welles Orson Welles Andiamo avanti Ma chi è? Regista Simone Hai aggirato un problema imbarazzante Con furbizia e rapidità Comunicandolo Con professionalità e tranquillità Quindi Prendi due pensieri strategici E una comunicazione Ah sì sì Buono Simo Top Sono contento Buono buono Poi facciamo vedere le monetine Marco facciamo vedere le monetine Le monetine Le monetine cumulabili Esatto Piano piano accumuliamo Il nostro potere Monete 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 Poi come vedete qua nell'angoletto C'abbiamo quelle che ci siamo messi da parte Rispondendo Lì nell'angoletto Sì Terza scelta Sì L'ottima scelta Ordini un delivery per pranzo Con due colleghi Appena consegnato Un collega poco simpatico Chiede se può unirsi a voi Lo accogli prontamente Condividendo il tuo pranzo E inviando al contempo Un nuovo ordine al ristorante Oppure Oppure State organizzando la festa a sorpresa Per un collega A te Spetta il compito Di trovare la question giusta Che soddisfi tutti I requisiti richiesti In un file excel Inserisci tutte le informazioni Per avere il quadro completo Madonna Madonna Ma addirittura Un file excel Per capire Preferenze Di questi stronzi Accontentate Per venire a cena Allora Guarda La prima È quella safe Perché comunque Tu fai venire con te Uno che ti sta antipatico Però potrebbe essere Una scelta giusta Potrebbe diventare Una buona risorsa Per l'azienda Più collaborazione Le antipatie Qua sul lavoro A posto di lavoro Quale skill Conta No? Le simpatie Ma qua siamo a Milano Eh figa Lo accetto E ordino un altro Burger King Ok Vediamo Ogni occasione è buona Per migliorare le relazioni Con gli altri E poi Il pranzo È un'ottima occasione Per conoscersi meglio Quindi buono Guadagni Due in intelligenza sociale E uno In pensiero strategico Che siamo fortissimi Toppo Vabbè Ma vinci sempre Con queste carte O c'è stato di culo Vinci sempre Ma noi vogliamo fare una cosa Vinci sempre però Esatto Vinci sempre però Quelle che ci servono a noi Questo è l'intento Come siamo messi a skill Diciamo Allora attualmente Abbiamo tantissimo Pensiero strategico Quindi dovremmo cercare Di non prenderlo più Esatto E comunicazione anche bene E malissimo In organizzazione No Pensiero laterale E capacità di analisi Eh capacità di analisi Ci serve però Quindi dobbiamo lavorare Su quella Sì Già basta Ah C'è una regola aggiuntiva Quando non hai una skill Puoi usarne due Per farne una Ok Non conviene Però Se sei disperato Certo Può funzionare Ok In coda a mensa Gianluca Aspetta però Che sono stato Un po' distratto Allora Essenzialmente Ci servono determinate skill Esatto Affinché la nostra azienda No questo qua l'ho capito Non ho capito la carta La carta Iniziamo La carta non l'ho ancora letta In coda a mensa Il secondo Ok Fammi la festa Però Questa è più Intelligenza sociale Forse Vabbè ormai va bene Come scelta No perché Sai che Della prima Mi sembrava Mette Un po' De zizzania E cose negative All'interno dell'azienda Perché mi scoppia un festino Che magari Mette zizzania Poi con rapporti D'amicizia pure in mezzo Nel luogo di lavoro Te non mi sembro opportuno Davide sta accavendo Abbiamo guadagnato Un'intelligenza sociale E due organizzazioni Però Che non ne avevamo Però ancora niente Di quello che ci serve Ancora niente Di quello che ci serve Allora Marco Faccia bene Questa scelta adesso Quale? Eh la prossima Te la dici Adesso Hai due carte Tra queste due Devi scegliere quella che vuoi Senti Gianlu A proposito Ma una cosa importante Quando è che Crei la versione Bella di questo gioco Guarda E quando qualcuno Vuole finanziarlo Le porte della Sdrubalini Sono belle Montemagno Ciolli Montemagno Quando volete Mettete i soldi E facciamo insieme Un top Ok Allora andiamo Vi servono le finanze Devi improvvisamente Sostituire un collega In una riunione Con un cliente arrabbiato Raccogli più informazioni È quello che fa sempre Corportiere Marco Devo disabituare Raccogli più informazioni Possibili sul caso E su chi incontrerai Fai una sessione veloce Di yoga Per rilassarti È proprio Marco E vai al meeting Oppure La tua collega di team Ti comunica Che tra un mese Si assenterà Per un lungo periodo E dovrai prendere In carico Le sue attività Inizia a mappare Le sue attività Definendo la priorità Ed integrandole Con le tue Quindi responsabilità E accollate Io direi la prima La prima La seconda Sono solo accollate La prima vado a fare yoga Poi dopo ne parliamo Però Accogli sta pratica Però è aeroshot Diciamo Eh capito Magari dopo c'è più responsabilità Però ricordatevi ragazzi Che dobbiamo sempre pensare Alle skill mancanti Sì tu devi cercare Magari ti fa successo E di aumentare Di livello nell'azienda Però Vabbè Non sarebbe una mia scelta Vediamo Vediamo Organizzazione Uno Buono Pensiero strategico Che fai yoga Ma che è questa cosa La musica c'è Che si entra sul desktop Si sentono Questo No è perché volevo Vede Marco che fa yoga Perché l'abbiamo citato Capito Eccolo Era presente solo in questa cosa Scusate Ok Bellissimo Abbiamo guadagnato qualcosa Amelia Capacità di analisi Abbiamo Sembrava tipo l'evoluzione Sembrava tipo i pop che muovono Se volvono Ci siamo L'ultima L'ultima Ok Allora Scegli Meliador Va bene Stai entrando Con due colleghi A mensa E noti Un nuovo Comunque succede un sacco di cose A mensa E E un via vai E noti Un nuovo collega Che mangia da solo Proponi di raggiungerlo Così da rompere il ghiaccio E non farlo sentire solo Oppure Oppure Un collega Avrebbe bisogno di dieci giorni A casa per problemi familiari Ma ha esaurito le ferie Studi la normativa E la polisi aziendale E proponi ai colleghi Di fare una colletta Di giorni di ferie Da regalargli Ma so Questo è San Francesco San Francesco Allora Devo cercare Di acchiappare Pensiero laterale Pensiero laterale Pensiero laterale Ci vuole un po' di pensiero laterale Forse Ma non contaminiamo Le idee Nel nostro Scelga Scelga Va bene Voglio Voglio vedere cosa c'è dietro Questa storia De regalar i giorni Ok Va bene Perché sono curioso Ok allora Vediamo un po' C'è Pensiero strategico La strategia è il nostro forte Analisi Buono Vai Analisi E di nuovo Intelligenza sociale Allora niente Pensiero laterale Allora ma Niente Non abbiamo pensiero laterale Niente Siamo proprio dei pensanti Esatto esatto De pensiero laterale abbiamo Va bene va bene Allora abbiamo finito la fase 1 Meno male Ma inizia il gioco Ma inizia il gioco Ok Ah oddio Mamma mia Per ora questo gioco Per ora questo gioco Mi fa schifo Va bene Meno male che almeno uno Si diverte un po' Posso migliorare Posso migliorare Qualtuno ci ha spiegato Perché se no veramente Devi scegliere Poi se prendi Cioè dopo ci saranno altre cose O è tutto così Adesso Adesso abbiamo scegliere i professionisti Oh Dai Dai è molto interessante Tipo la live di Curriula Sì esatto De Mose tagliamo Allora Ne dovremmo prendere 12 a caso E li metteremo davanti E poi Li acquistiamo Ok Prego prego Selezioni Guarda quante belle carte Un bel po' di capitale umano Pigliamo nel mezzo Un paio Così allora dai Tanto sono 12 Guardo 3 3 Ho 3 5 Prendi ne un paio Sergio Ok Va bene così dai Ho 6 Ne mancano 6 Prendi ne 3 E prendi ne altre 3 tu 3 3 Sì 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 E altre 3 in meglio 2 3 Va bene così Top Ok Allora No no Disastro 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 assurdo Vediamo che avete preso Vediamo 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 I nostri professional Quindi ne sono usciti fuori quanti Quanti Allora Sono 12 adesso le carte Però dobbiamo sceglierne Ne dobbiamo comprare Quante più riusciamo Ah ok In base a Quindi se devono comprare Quei gettoni Tipo fantacalcio Bello C'è sta C'è sta Così investiamo su quelli Che sono utili per l'azienda Allora Allora Collaborative Business Manager Ok Ma c'è una descrizione Sì sì c'è una descrizione Eh Niente Se hai rubato La facciamo legge a Sergio Vai 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 Sergio Che è quella che hai scelto tu Con tanta cura Entrata la manina Faccio troppo Prego 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 Collaborative Business Management Ah Crea E Fornisce Le applicazioni E i servizi Necessari Per Connettere Digitalmente Dipendenti Fornitori Clienti E consumatori Ottimizzando Capacità O risorse Aziendale Questo può essere buono Per noi Però Ok Può essere buono Per noi Ci può servire Ok Poi abbiamo Hai capito Data Privacy Manager Ok Eh questo mi serve a me Scusa Esatto Esatto Declina Strumenti Metodologie Processi Tutte le attività Necessarie A tutelare la privacy Di dipendenti Clienti Questo sicuramente È tuo È più importante Per il momento Space Tour Agent Ah Adrian Adrian Partate Space Tour Hai capito Vuoi andare su Marte Ci pensa lei Ok Organizza viaggi interplanetari E spaziali Per turisti Che ricercano Un'esperienza esclusiva E coinvolgente C'è un cazzo di questo Via 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 Te lo sei liquidato subito Via Maledissimo Sapio Via A tre persone Te lo sei liquidato subito Via 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 la scienza Da questo canale Gli alieni no Hacking Protection Manager Eh beh Questo è il nostro Questo è il nostro E questo ti fa una boutique Che lascia E questo ti fa una boutique Che fermete Garantisce la sicurezza informatica Attraverso la prevenzione E difesa Da attacchi informatici Oddio regà Ma che è sta roba È vero Messaggio da un utente sospetto Mai visto Possibile illusione Vorrei sapere Target gioco Uno che è stato bannato Evidentemente con lo stesso Eppi Non c'era mai capitata sta cosa Bellissimo Utente sospetto Mai visto in chat Lo vediamo solo noi Ti servirebbe Ti servirebbe una NordVPN Effettivamente Vorrei sapere Target gioco Il target del gioco Beh allora C'è scritto Dai 6 ai 90 anni Sì Ma comunque Abbastanza grandi Da non mangiarsi le pedine Ok E dopodiché Guarda se Se riesci a leggere Giochi Esatto Mi mettiamola così Quindi questo pure Importante Poi c'è il circular Cioè noi tutto il cerebro Senza metodo Non abbiamo mai potuto giocare Assolutamente Sappiamo leggere Ovviamente Infatti Vabbè ma Ognuno C'ha una schilla È certo Siamo qua apposta Circular economy manager Rende possibile La transizione Da un modello Di business lineare A circolare Diffondendone i principi A tutti i livelli Inutile per me A prescindere inutile proprio Un individuo incredibile Non esiste Questo è il pensiero laterale No non esiste Questa professione Waste manager Definisce procedure e metodologie Per gestire l'intero processo Dei rifiuti Dalla produzione Alla destinazione finale Allora Aspetta Grazie Fabio Luna Eh Fabio Grazie Fabio Riflettiamo un attimo Riflettiamo un attimo Noi abbiamo rifiuti Allora per quanto riguarda La parte digitale No La parte boutique Boh Qualcosa sì immagino Però Anche questo è digitale La boutique è digitale Allora Che cazzo Non è tutto digitale Questo gioco Scusatemi Wellness Forse è wellness Eh no wellness Vabbè Vabbè poco Insomma Non grandi rifiuti però Stiamo facendo delle cose Oh mio Dio Ma che avete creato? Ma che mi avete creato? Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Basta 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 Sconsigliato Per chi soffre di epilessia Andiamo avanti Soffre di epilessia Data scientist Ok Questo lo conosciamo Sì questo va bene Ci interessa Poi Poi Edu tech expert Quello di Che parlavamo prima Tech Gestisce Tech No tech In realtà In inglese è tech No technology Eh lo so Però la considera che Nei giochi Quando c'è il tag Tech Io lo dico tech Però mi dicono che va detto Tech Però io sono ignorante Quanto te Quindi Mi fido De quelli che mi bacchettano Ok Gestisce e supporta Processi di apprendimento Attraverso più evoluti tools Tecnologie Approcci E metodologie Accompagna le aziende A costruire i migliori percorsi Di sviluppo per le risorse Va Ok Sta lì Crypto developer Oh Attenzione Vai Attenzione La crypto Sviluppa la strategia Della valuta digitale E determina Gli step Vincoli e caratteristiche Però a noi non serve In realtà Beh Capitale Ma questo vale per tutti Allora potenzialmente Cioè vogliamo investire in crypto Che cazzo ce ne frega No sì Non so se Magari Se tu fai la boutique Digitale Ma allora perché Scusate La California Institute of Technology Si chiama Caltech Caltech Perdonatemi California Institute of Technology Famosissima Caltech Vabbè Comunque No è importantissimo È importantissimo Prego È collegato ai crypto No no Attach tech Ah vabbè No 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 Ce l'ho giro È un dubbio linguistico Se c'è qualcuno Intelligente di noi Un C3 Crea Allora Robotic engineer Ah robotic Crea robot e sistemi robotici Capaci di effettuare i compiti Che per gli esseri umani Non sarebbero In grado di fare Ok Ok Pure questo Boh Non so quanto ci possa servire Infatti Nel wellness Un robot che fa il massaggio Non lo so Punterei più su qualcosa Che siano delle vere skills Che se non sarebbero Pure al progetto Abbiamo sbloccato il bonus Monty Oh I jolly Monty Ok Mobility engineer Crea una cultura Della mobilità sostenibile A tutela di salute e ambiente Ok Affronta temi della mobilità Con un approccio multidisciplinare Ok Noi non ce ne frega un cazzo D'ambiente Greta Thunberg Che frega un cazzo Veramente Fuori da questo canale Fuori da tutti gli schemi Fuori da tutti gli schemi Poi c'è un host platform developer Ok Crea diverse tipologie di software Attraverso complesse scritture e codificazioni in linguaggi informatici Eh questo può essere buono Questo può essere buono Questo può essere buono Nel 2022 bisogna puntacce Questi sono i 12 neolaureati che abbiamo a disposizione Allora io andrei subito su quelli selezionati L'ultima la prendiamo Poi avevamo detto La seconda e la prima Il data protector Non è a me No 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 Serviva proprio all'azienda Era stata la carta Non abbiamo delle aziende diverse Prendi la seconda in alto a sinistra No Insieme Prendi la seconda Guarda che ci serve a tutti Prendi la seconda in alto a sinistra Data privacy manager Sì quello per forza Ok Questo è quello che stava di Simone Dobbiamo pagarlo per attenzione Eh vediamo quanto sembra Lo giriamo Dobbiamo per forza pagarlo Ok Ok Quindi dobbiamo Se serviva sulla carta che è uscita a lui C'è stato Il simbolo che c'è qua sopra Ti indica Che cosa probabilmente dovrei pagare di più E qual è? Ed è organizzazione Che noi ne abbiamo abbastanza Che ce l'abbiamo Ok quindi giriamo Prego Pagliamo Due in organizzazione Ok E due In capacità di analisi Ok Ed acquistiamo Il nostro primo professore C'è andata molto bene C'è andata regà Dai Facciamolo vedere Il professionista Facciamolo vedere la carta Facciamolo vedere il professionista Non ho avuto nulla un senso Lo vedete un po' Hai capito Ma è una donna È una donna Licenziata Ma scusa Si può tornare indietro Questa cosa Questa è proprio Quello scam De quelli Quell'esperimento Che hanno fatto Al buio Cambiamo carta Cioè se avessi saputo Che era una donna E i Baia Si mi avrebbero impedito Di fare questa scesa Sì ma anche a me Palesemente È la carta Che ci serve di più In assoluto Ma non l'avremmo scelta Senza ombra di tutto Esatto Allora Vi do subito Una bruttissima notizia Su 12 professioni Non ce n'è una Con strategia No Ma come Ma che davvero Ma che scam Come strategia Nel suggerimento Magari ce l'hanno Magari sotto ce l'hanno Speriamo 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 Esatto Ok allora Scusami però Qual è Che punti Abbiamo adesso Da poter spendere Allora Abbiamo tanta strategia La strategia Abbiamo detto Però Aspetta un attimo No che hai fatto Io Che hai fatto te Ah regà Ci stoccavi in cazzo Un attimo Allora Strategia Abbiamo detto Che potenzialmente Nessuno Giusto Teoricamente Almeno A vederlo Altre Abbiamo tanto Di intelligenza sociale Ok Quali sono quelli Ne abbiamo due qui Crypto developer Dai regà Ma che cazzo Stai a fare Mi ha chiesto L'accendino Io l'ho tirato Come faccio Lo vedo da Ma che scena L'ho visto Ma però Mi ha chiesto L'accendino Sta lì Dai Ma che misti L'ho fatto così Dove essere una cosa Discreta Discreta Ma inquadrata Ma inquadrata Mi sto un proiettile E Marco Persemanava Impaurito Cioè Mi ha fatto rire Un lemure Lancia le cose Da gente Adesso Dateci sta clip Adesso capite Quanto è difficile Avere una start up Con Simone Santoro Ci si diverte Però Finora non siamo implosi Vabbè Allora dicevamo Quali sono i due potenziali Che possiamo acquistare Crypto developer Collaborative business manager Ah crypto Che era quel business Collaborative Che faceva Crea e o fornisce Applicazioni e servizi Necessari per connettere Digitalmente Edipendenti Questo è buono Questo è buono Prendiamo questo Dai Via Lo andiamo ad acquistare Ok Allora Lo paghiamo Due Di intelligenza sociale Ok Uno Di organizzazione Ok Uno Di comunicazione Cosa ci è costato caro Eh sì E uno purtroppo No È di pensiero laterale Che è gravissimo Gravissimo Ok No 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 Ma hai fatto male Ma a me sta a fare ancora male Li mortaggi due Ma cos'è Ti è stato l'asilo Ho preso proprio la parte Del ferro Ma ti hai sentito il rumore Infatti Ho fatto lo tink Però Hai schivato Anche io ho molti obiettivi Con queste mani Marco Hai schivato Hai schivato Molte videocamere Però Tutte le hai schivate Hai schivato Ok Vabbè Dicevamo Abbiamo Abbiamo un altro professionista Vediamo un po' chi è Abbiamo acquistato lui La vedete un po' Ma che è questo coso qua No Da dove sputta fuori Questo coso Ok Collaborative Business A chi somiglia questo Tempo che ci rimane È tempo Ma che quanto tempo ci abbiamo Un'ora Jonah Jameson Jonah Jameson Due tre minuti e poi finisce tutto Ok Ne prendiamo un altro Ok Oppure Non abbiamo finanze Un altro ne possiamo prendere Che dici Allora C'è un suggerimento No 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 Dobbiamo continuare Obbligatoriamente Finché non possiamo più farlo Ah ok Ah minchia Ce n'abbiamo tante ancora Ok Eh E mo Io mi sono scordato Allora Vi faccio un breve recap Di quello che Dicono ci potrebbe servire Tu che ce l'hai davanti Che magari riesci a individuare Allora Per tutti e tre Serve comunicazione Due su tre Intelligenza sociale Per tutti e tre Serve capacità di analisi E per due su tre Serve strategia E comunque Ce n'abbiamo tantissime Sono quelle che ce n'abbiamo di più Quindi questa cosa è buona Poi un'organizzazione E uno pensio laterale Quindi Però dobbiamo beccarli Però prima o poi li beccheremo Perché tanto se non li beccamo Pagamo altre monete Quindi Prima o poi li beccheremo Quelli che ci servono Però cerchiamo di Potremmo provare ad acquistare Uno di quelli Con capacità di analisi Sì Vai scelgici Ce ne sono tre Hacking protection manager Data scientist O robotic engineer Allora quello di hacking Serve sicuro Perché abbiamo Una delle tre carte Che baserà su quello Vediamo un po' Oh Ok Uno in strategia Lo paghiamo Buono Che è positivo Due In capacità di analisi E uno In organizzazione Vabbè Ce sta Ok Facciamo vedere il professionista Il terzo professionista Che abbiamo preso È Doctor Strange Doctor Strange È Dario Moccia Ma che cazzo Sta a fare qua dentro Ok Possiamo andare avanti Allora Comunicazione Sarebbe utile Averne uno Ok E quindi potremmo optare Per il mobility manager Che è l'unico Comunicazione Eh sì Vai È l'unico Comunicazione Prendi prendi Mobility manager Vai Madonna quanto costa Sto coso E la madonna Vabbè Vabbè Quelle là ce ne abbiamo Vabbè Tanto Oddio Mi sa che So quattro Quelle là Complessivamente So quattro Eh vabbè Ce ne leva due Due in comunicazione Uno In strategia Che è buono Uno purtroppo In pensiero laterale Uno In data Analyze E uno In Intelligenza Sociale Questo ci è costato caro Però ci è utile A quanto pare Speriamo Che Ok Sergio ne scelga Un altro Da quelli esposti Ah Un'altra donna Un'azienda inclusiva Comunque Buono Buono Due donne su quattro Quindi la metà Perfetto Cioè il mondo reale Proprio Un po' dai modellini Di macchine Sì Sergio scelga lei Scelga lei Il data scientist Buono Eh vi sembra Buono Ci può seguire Olè No non ce l'abbiamo Non possiamo pagare Un disastro epocale No attenzione Quando non abbiamo Un gettone Ne possiamo usare due Per pagarlo Al prezzo di uno Cioè dobbiamo usare il doppio Dobbiamo rinunciare a due Per forza Ma ce l'abbiamo Due organizzazioni ce l'abbiamo Ci mancano entrambi però I capaci di analisi Quindi ne dobbiamo usare Quattro Ne dobbiamo usare quattro Per usare Quattro verdi Ne dobbiamo però finiscono Ne prendiamo quattro verdi Ce le abbiamo A parte che devono finire C'eravamo di più Quindi abbiamo il data scientist Sarà di noi Va a vedere un po' Bravo Sergio Ci stai giocando Grazie Posso un attimo esaminare la carta? Esatto Ok Roberto Mercadini Allora La carta che probabilmente Paghiamo meglio È il crypto developer Molto buono Ok Quindi Probabilmente Ci dobbiamo andare così Perché tutti gli altri Cominciano a non avere ce n'è più Proviamo Provare Non è vero Era un inganno Ecco Allora Dobbiamo pagare Uno in organizzazione E va bene Uno In intelligenza sociale Uno In pensiero laterale E poi di nuovo Non abbiamo Capacità di analisi Quindi ne useremo due Di altre cose La pariante è uguale E facciamo uno e uno Così? Sì Facciamo uno e uno così Qua la prossima abbiamo chiuso Mi sa che è l'ultima Riusciamo a permetterci forse Sì riusciamo Sì riusciamo Secondo me no Crypto developer Vediamo un po' Il crypto Questo è buono C'è me di crypto Regà Non ci ferma più nessuno Ok Top Fare quello De Don't look up Esatto Il guru È lui il guru È vero È vero È Mark Rylance L'ultimo Vai Siamo nelle due mani Terzo scelga bene Host platform developer Vediamo Uno due tre Yeah Eh vabbè Rip Non abbiamo una cosa C'è l'iela che abbiamo portato E quindi non lo possiamo comprare Finisce qui la fase di reclutamento Ok Adesso Eh dai L'ultimo ce l'ho ucciso Vabbè Vabbè Mi ho fatto videogioco Yeah Mi ho fatto videogioco Questi sono i nostri sei Professionisti Top I sei guerrieri Ma hai detto li possiamo utilizzare due volte Vero Li possiamo utilizzare due volte Ma cada uno o in totale Ognuno Ognuno Ok Ognuno Le giriamo perché qua C'è va Quindi adesso comincia il gioco Adesso mi sa che comincia Adesso Adesso Oh la parte divertente Arriviamo No Attenzione No Ancora no Hai fatto il giocato verde Fatto punti vai Prego Prego Meli Allora Allora Ci sono Adesso si possono conquistare I Montemagno Oh Megoglioni Ok Ecco Allora In fondo a questo libretto Adesso andrò a leggere L'attacco alle glorie Ci sono Delle domande Relative Alle professioni Che abbiamo preso Ok Se azzecchiamo la risposta Prendiamo Montemagno Buono Si no no Ok Ok Quindi vado Andiamo Andiamo Io le leggo Quindi mi sa che non posso Rispondere Ok Facciamo Come prima Come ordine Tranne Melitor Vai Parte Sergio Allora Mi raccomando Sergio Allora Allora Andando A chi tocca tocca Devi rispondere A questa domanda Mi raccomando Se li stacca Circular Non ce l'abbiamo Oh eccolo qua Allora In realtà potete rispondere tutti Insomma Si ok Oggi Per avere successo In un'azienda Bisogna Mirare A una prospettiva Esterna E interaziendale Focalizzarsi Sulla prospettiva interna Tenere d'occhio La concorrenza A B O C Prego Sergio Prego La terra Abbiamo mai creato Sì assolutamente Il gioco per Devi lavorare Potrai entrare nel magico mondo del lavoro È il gioco per tutti i pupilli di Montemagno Che lo vedono come Gesù Scesontero Quindi nessuno Quindi focalizzarsi Qualcuno c'è Davide Sulla prospettiva interna Sì Ed era La Mirare una prospettiva esterna E interaziendale Cazzo Naggia Dai Poi c'è prova Simone Dai Ma quale ha scelto Il primo è Collaborative Business Manager Sto andando in ordine alfabetico Ok Ok Vai Simo Crypto developer Vai Ok Questo è il mio campo Ok Ma Questo è il mio campo Assolutamente Ok Questo è il mio campo Ci sono Bisogna Bisogna sempre fingere Ragazzi Una criptovaluta Rappresenta A Una moneta impossibile da convertire E quella mangia la banana Vai B Un valore digitale basato sulla criptografia Io te lo conosco Vai C Un simbolo economico Difficile È dura questa ragazzi Prego Simone Ah ma era un quiz Sì Era un quiz Ti ripeto le B Non c'hai capito B Come Come E la soluzione è B Wow Grazie Monti Simone prende Il primo Montemagno Poi Grande Simone Dai Poi un Monti lei Bravo Simone Ottimo lavoro Applausi Pazzesco Pazzesco Poi abbiamo Piru piru Eccomi Eccomi Allora Davide deve rispondere al data privacy manager Vabbè so tutto No VPN Cioè sarebbe proprio veramente uno sponsor vergognoso se non fossi informato Sei mister VPN L'argomento Lei è mister VPN Che era un po' deludere nessuno Cioè ho fondata io questa società Ho fondata te Vai Allora privacy dei dati e sicurezza dei dati E poi? Sono due cose diverse Generalmente coincidono si escludono a vicenda Allora aspetta 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 Guarda esabili Allora reggimi una domanda Aspetta Sergio Privacy dei dati e sicurezza dei dati Ok Sono due cose diverse Generalmente coincidono Si Si escludono a vicenda Allora Secondo me Generalmente coincidono E la risposta è Sono due cose diverse No Non per NordVPN 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 è molto migliore di quella rappresentata su questo gioco È vero Punto esclamativo in chat Signor Ceu la banana Mi dica È la banana È la banana Il 90% dei dati oggi in circolazione è stato creato Negli ultimi 20 anni Negli ultimi due anni Dal 1970 Io non mi ricordo vai Il 90% Il 90% totale dei dati 20 anni Due anni 40 anni 50 anni Due anni Due anni La risposta è Due anni Sì Dai Grande Sì Non puoi sbagliare Non puoi sbagliare È troppo facile Basta pensare Gli ultimi due anni Come sono cambiati i social No GG Meno male Aumentano le dimensioni Tocca a Marco Tocca a Marco Marco Ma a livello di dati La domanda C'era gli sport atleta Quindi la pesantezza No ma immagina quanto pesava un file dell'epoca Una delle versioni è gli sport atleta Non esiste Infatti io non esisto adesso Però in futuro magari sì Marco stia attento Eccoci Allora Hacking Protection Manager Sto io Sto tutto Sta in forma Marco Allora L'hacking Nasce Per fini Non necessariamente criminali Sempre con intenti criminali A scopo di guadagno Eh dura eh Aspetta ma sono tre Tre opzioni Due mi sembravano unite No Per fini Per fini Non necessariamente criminali Cazzo Sempre Con intenti criminali A scopo di guadagno Lacking Lacking E a scopo di guadagno però Non è detto che non sia criminale Marco Devi scegliene una Io la so però Tocca a te Marco Ti tocca tocca Pensi bene Non per forza criminale Grazie per i sub Sì Ah sì Bravo 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 Marco Un altro Montemagno Non sono tutti cattivi Dai Tre Montemagni Grazie E io me bagno la banana Bravo Marco Eccolo Lei è un pazzo Pazzesco Che bello Penso che ci arriverà una querela Grossa come una casa Dopo sta live Allora Vabbè Non lo so Mi rispondo da solo Tanto le domande Le copro Mobility manager No mobility engineer Allora il mobility engineer E' Un ingegnere 2.0 Uno specialista della mobilità Un tecnico di settore E' difficile questo Tipo tutte e tre Eh ma infatti Cazzo Allora Allora Valudiamo Ingegner 2.0 Un po' mi sembra Una risposta del cazzo Un specialista della mobilità Secondo me è un tecnico di settore C Prego Tecnico di settore No No Era uno specialista della mobilità No Vabbè Va bene Va bene Va bene Il momento quiz è finito Ok Ma questo gioco è pieno Di sorprese Mo' inizia il gioco Marco Mo' inizia il gioco Ok Allora In questo momento Dobbiamo gestire i nostri professionisti Ho sentito la Marco Ho sentito la Marco Da bismiglia Non mi hai tirato una banana Sembra un po' esagerata La banana Ho sentito Marco Ma chi No no Chi è che l'ha detto Simone Io lo tiro Ho sentito Marco Vai bene Marco sei paranoico A me mi ha detto un'altra cosa Sei paranoico Allora Allora Adesso dobbiamo gestire I nostri professionisti Per impegnarli Per il successo Della nostra startup Ok Quindi partendo Dal primo obiettivo Che possiamo scegliere noi E utilizzando le informazioni Oh da me Che mai ti hai tirato La banana E E usando Le informazioni Che abbiamo sulla carta obiettivo Dobbiamo utilizzare Le tessere professioni E le rispettive skill Per poterne soddisfare i requisiti Ok Che vuol dire Che qua dietro Ci sono delle skill Che devono essere soddisfatte Perfetto Quelle che abbiamo pagato Sì Sono quelle Che verranno utilizzate Ok Quindi Quello che abbiamo pagato tanto È fortissimo Ovvio Ok Ma i bonus Montemagno Quando si possono utilizzare Se Se non abbiamo Ok Le skill Ok Se non abbiamo le skill Possiamo utilizzare il bonus Montemagno Inoltre Se riusciamo Se riusciamo A mettere proprio La tessera Che c'è scritto qua Veniamo premiati Ok Veniamo premiati Un pompino Un pompino Ma hai visto un gioco Con così tante regole E così poco divertimento Benvenuto nel capitalismo Benvenuto Nella società Che società E Sarà stato utilizzato In maniera gratuita Ok Cioè Non abbiamo Sprecato l'utilizzo Del personaggio Se becchiamo quello giusto Buono Buono Ok Quindi possiamo poi Rutilizzarlo Dai Andiamo Dalla chat Che abbiamo superato Le 100 sub E che quindi Dobbiamo fare un round Aggiuntivo Io vi dico di sì Per correttezza Un round aggiuntivo Per questo gioco Penso valga 10k sub Ma questo è il round Di riscaldamento Poi c'è un round Per capire meglio Poi c'è il round vero Ci sono i due round Effettivi Più quello da 100 Sbloccato Sì sì Però facciamo una cosa Ragazzi Un gol c'è Se arriviamo a 6500 sub Ci sarà la Seconda partita 6500 Sta lì a schermo Sì Sì Va bene Un suicidio Stiamo qua fino a domani Un terrore Sì sì Vabbè Se arriviamo a 6500 Ho paura Io le faccio pure 5 È una maratona ragazzi Faccio una maratona Va bene Ok Qual l'ho detto Allora Nel caso incredibile In cui raggiungiamo Tutti e tre gli obiettivi Poi cominceremo A dover risolvere gli eventi Ok Però questo Vabbè Vediamo Se ci riusciremo Allora con cosa vogliamo iniziare Piccola azienda Development Development And wellness O risorse globali Va risorse globali Risorse globali Cazzo ci frega a noi Ok Ma così Tanto è uguale Allora Risorse globali Qui c'è scritto Che le cose Che potrebbero servire Sono Comunicazione Organizzazione Strategia E analisi dati Ok Di conseguenza Cercherei di escludere Le carte Che hanno Le altre due Intanto Ok Così se le teniamo da parte Ok Quindi questo Direi di no Questo direi di no Questo direi di no Rimangono Data scientist Sì Data privacy manager Che però sono identici Ok Quindi non credo sia conveniente Usarli entrambi E hacking protection manager Proviamo quello Oltre anche a questi tre Che magari possiamo anche inserire Attenzione Non dobbiamo mettere secondo me Un po' Cioè Adesso prendo un obiettivo a caso Per capire Questo ha bisogno di sei Ok Sei skill Per essere completato Ok Quindi di media Dobbiamo metterci Almeno due professionisti Sì Se vogliamo andare sul sicuro Tre però Poi rischiamo Tre rischi che lo bruci Quindi Allora facciamo Magari ne mettiamo O tre piccoli O due Di cui uno dei due grandi Che so Questi che abbiamo Sì esatto Ok Allora Partiamo magari Con i due grossi Allora Sicuramente Secondo me Per questo obiettivo Uno di questi Lo dobbiamo utilizzare Perché c'è sia data analysis Allora conviene mettere Tre piccoli Allora Sì Conviene mettere tre piccoli Allora Diciamo Secondo voi Risorse globali È meglio Il privacy manager O data scientist Data Data scientist Data scientist Ok A questo punto Va da sé Le altre due In realtà Eh oddio però Abbiamo duemila Quanti ce ne mancano Allora Perché il fatto è che Mettere altre Altre coppie Qui ci andiamo A prendere una marea Di data analysis Che secondo me Non serve adesso Quindi Potremmo fare queste due E basta? È che è abbastanza misto Se vai a vedere C'è quella che è tre E poi resta uno o due Ok Allora useremo Data scientist Hype train Tra l'altro Dai con sta hype train Grazie E mobility engineer Vai No hacking protection manager Ce l'avevamo Oh ma ce l'abbiamo però 2-2-1-1 Cioè che è successo Che è successo Allora Dobbiamo Risolvere Questa cosa Se tu azzeccavi Anche esattamente Il giusto personaggio Non spregavi l'utilizzo Allora noi Abbiamo risolto La grande Però utilizzando Una volta A testa Quei due Professionisti E sidra quindi Ok Ok però Guadagniamo 6 punti Buono Molto buono I nostri primi 6 punti Piccola azienda O development Wellness Timore scelga Piccola azienda Piccola azienda Allora Nell'azienda qui Servono sempre Data analysis Strategia Questa volta Sociali Ce ne abbiamo un botto E Comunicazione Ok Allora Noi abbiamo un problema Comunicazione Serva a tutte e tre Stiamo giocando a questo gioco Comunicazione Ci siamo in qualche modo Imbarcamenati In questa cosa La vera domanda è Ma Montemagno Si diverte così Ma no È vero Ma non penso Che lui ci giochi Abbassa È l'ultima destra Tu lo sai che si può fare Anche da solo In questo gioco È anche un solitario Ma pensate che tristezza Ma immaginate Montemagno in questo momento Che sta giocando Da solo Come solitario Con la live Tercer Non sottofondo Noti intere Ma io No no Veramente Io ho paura Per questa live Per il futuro Divertentissimo Cosa dimostra Questa live Dimostra tante cose Cosa sta dimostrando Questa live Dimostra tante cose Secondo me Però noi non Non ci esprimiamo No 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 Vabbè poi Vabbè Certo che ci esprimiamo Per me questo gioco Non lo giocherei mai Off live Non lo giocherei mai Una seconda volta Se non pagato Mi ha annoiato Mi ha fatto schifo E mi ha fatto cagare A me fa male fisico Non è querelabile È un mio gusto Guarda che non è querelabile È un mio gusto personale Ma anche dei difetti A me ha fatto schifo A me ha fatto schifo A me ha fatto schifo Querela Sono opinioni personali Ma andiamo Allora Qui abbiamo Comunicazione Io non userei subito La seconda volta Quindi l'unico altro Comunicazione Quello sicuro E poi Forse ci metterei Allora Sicuramente Again Protecting Manager Non è quello giusto No No Però Però qua non c'è Organizzazione Ok E quindi se noi ci mettiamo Quello con doppia organizzazione È inutile Allora prova dai Quindi io proverò Sicuramente utilizzeremo Le crescidre Ma amen Allora Ci abbiamo Non male Non male Ci abbiamo preso Perché quei due ce stanno Quella là ce l'hanno entrambi L'altra ce l'ha solo uno E le altre due pure ce l'ha quello Eh però Se vai a vedere La carta a sinistra Le ha tutte Tranne quelle là Celesti Che ne servono due Che ha quell'altro Quindi comunque abbiamo fatto Abbiamo azzeccato molto bene Top per la carta Sì Comunque abbiamo Fatto bene Ok Allora Usiamo le crescidre Ma ci siamo riusciti Questi vabbè Questi sono buttati Perché prima non siamo riusciti ad usarli Ok Quindi altri sei punti Per Il team Cerbero Top L'ultimo È Development E wellness Alla fine ci tocca Vabbè ci tocca Ci tocca Allora Qui abbiamo Tanto dobbiamo usare Tutti e due A questo punto No no Perché dopo ci sono gli eventi Ah gli eventi Ok Allora Abbiamo Sicuramente Sicuramente Da usare Secondo me Il crypto Quello là Quello là Per forza Cioè è l'unico Sì è l'unico Esatto E c'è rimasto Quello che abbiamo scelto per primo Che ci ha avanzato Praticamente È vero Sì Sì Non è Non è bellissimo Però Lo possiamo usare Lo usiamo comunque adesso Dici Allora Piuttosto che lasciarlo Comunque so sei carte No so tre carte Sei professionisti Abbiamo fatto a coppia di due Non possiamo avere più possibilità Perché poi le carte sono finite Comunque Che senso c'ha lasciarlo lì No 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 Perché ci stanno in un gioco Si continuiamo gli eventi Proviamo secco questo Quindi Proviamo dai Però forse è sprecato Lo sai Se no potremmo fare uno e due E tenere questo per un'altra volta Perché Il fatto è che è proprio combacia Capito No infatti È proprio fatto bene No L'unico problema è comunicazione Che manca comunicazione Allora facciamo quello E l'altro piccolino Con comunicazione Questo qua Sì Lo usiamo Amen dai Va bene Sergio dici Vediamo vediamo Abbiamo doppia comunicazione Ce ne abbiamo una Ma possiamo utilizzare altre due Per compensare Se ci riusciamo E pure Sergio ha perso energia Io non l'ho mai visto 1, 2, 3, 4 È quasi energia nucleare È un gioco che ti distrugge È un dissenatore È questo gioco che te la sfrugge Io però Poi andiamo alla prossima puntata Col trono del muori Ah no si finisce Si finisce Si finisce Perché voglio vedere La produzione di Montemagno È indispensabile Allora Ci mancano Ci mancano due skill Però Ne abbiamo Nove in totale Quindi sono quattro Ne possiamo usare due Per compensare Quindi Riusciamo anche questa volta Ok Ok Ups Questo l'abbiamo usato due volte Non lo possiamo più usare Ah Ok Questa è Era L'educatrice Tecce Sì Ok Va bene Quindi altri sei punti Partiamo con gli eventi Ragazzi Eventi Evento Sulle principali testate giornalistiche È uscita stamattina La notizia Che il tuo stesso settore Lamenta scarsa attenzione Da parte dell'azienda Al benessere dei dipendenti Ma che gioco Eh Eh Grazie Grazie Il bambino Il bambino che gioca E dice Maronna Ma c'ho sto problema Che i dipendenti C'hai l'ansia Cioè Ma il ragazzino gioca Ma che gioco è Bravo Marco Esprimidi Ti menti i pensieri Già Cioè Sto ragazzino Ma Da che età c'è Poi giocare Da sei anni Da sei anni Un bambino Ma che cazzo Di bambini Cioè C'hai ragione Marco Se me il mio figlio Mi dicessi Eh no Perché ho questo problema Con la mia azienda C'ha sei anni Delle macchine capitalissime Simo Simo E Chitano Guardate i direct di Instagram Scrive Fabiola Ok Fabiola Montemagno Ci ha querelato Immagini Prego Prego Allora Qua dice che serve Pensiero laterale Sociale Che ce l'abbiamo Bene E di nuovo Per l'ennesima volta Comunicazione Ok Allora Potremmo anche Usare Tipo solo Mobility Manager Sì Sì Cioè non so Quante Se ne so dietro Se sono uguali Se prendiamo un evento A caso Ok qua ce ne so Cinque Vabbè ci proviamo A meno che Cioè O rischiamo Usiamo poi questo Oppure andiamo sul sicuro Ne mettiamo un'altra Dai mettine due Dai Ok Facciamo questo Sì Vai vai La comunicazione È uno strumento potente Ma bisogna essere pronti A cogliere le opportunità Anche in attese Che genera Tre di comunicazione Ce ne abbiamo due Due Di sociale Ce ne abbiamo uno Quindi ce ne mancano due Però ne abbiamo cinque E oltre Quindi riusciamo Ma Questo non può più Essere utilizzato Quindi via Questi quattro Possono ancora Essere utilizzati Una sola volta Ok Prossimo evento Prendete quando finisco I professionisti Finisce il gioco Esatto Ok Siamo quasi alla fine Abbiamo quasi finito Non vi preoccupare ragazzi Abbiamo capito come si finisce Almeno Usiamoli tutti In realtà questa è una trappola Di Montemagno Tipo Jumanji Sì Non uscirai mai Da Jumanji Non hai la giurtenza Di poter finire Non incominciare Devi diventare miliardario Il business Si sta espandendo Ah no Non è vero Sta esplodendo Ah no L'opposto Sta esplodendo Però potrebbe anche essere positivo Ma per gli elevati carichi di lavoro Molti mangiano Alla scrivania Fermandosi anche Fino a tardi la sera Cominciano a manifestarsi Problematiche Di salute Eh questo è Marco Vedi Sta al lago Cortermos Ave effetti negativi Come lo risolviamo Allora di nuovo Cos'è? Un instant replay C'è comunque Bellissimo Oddio ma tu è che Ce l'ha mandato Fabio Grande Fabio Ah me lo rivede Che mi ha stunnato questo Che mi scrivono questi qua Che mi Mi mette pure Mi mette pure l'audio Marco Ti accendi le casse? Una cazzata Vai 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 Ah 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 C'era bellissimo Vieno per Ah 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 Ok Espressione Prego scusate Prego 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 Allora abbiamo Wow Abbiamo comunicazione È che non ce l'abbiamo più Quindi ci arrangiamo Organizzazione E sociale E pensiero laterale Allora Sociale e pensiero laterale Abbiamo Sociale e pensiero laterale qua Sì Quindi questo è buono E poi scegliamo uno di questi due Quale vi piace più? Data scientist È uguale Vai vai Sergio Scegli Bravo Sergio Bravo Andata Due organizzazioni ce l'abbiamo Sì Pensiero laterale ce l'abbiamo Sì Organizzazione ci manca E ci manca anche uno blu Abbiamo giochi però No ma abbiamo ancora sei cosi Quindi riusciamo Ok A risolverlo Ok Stiamo finendo Non abbiamo ancora usato i giolli Ma infatti ora cominciamo a metterne uno alla volta Uno con i giolli Sì sì Evento Il nuovo collega Appena arrivato Nella seconda riunione a cui partecipa Sottolinea i propri dubbi Sulla validità dei dati E dei processi di sicurezza informale E aziendale Abbiamo di nuovo comunicazione Ce l'abbiamo Organizzazione e strategia Io Qua c'è organizzazione e strategia Prenderei solo lui Sì Eventualmente siamo i giolli Due organizzazioni Ce n'abbiamo uno solo Strategia due Ce n'abbiamo uno solo Quindi uno lo compensiamo Servono due giolli Per riuscire Eh vabbè dai Amen Quindi usiamo due Montemagno Che toccava Grazie Monti Non so Cioè anche il gemello è venuto Eh sì Abbiamo usato i due Eh sì E prendiamo altri Cinque punticini Migragnosi L'ultimo evento Sicuramente L'ultimo Riusciremo a farcela Sì sì Sicuro al 101% Il sito aziendale È stato hackerato No E noi siamo pieni Di professionisti È stato chiesto Un riscatto In moneta virtuale Ci abbiamo ancora Non c'è cripto No L'abbiamo usato No No L'abbiamo usato il cripto Il cripto man Per riottenere Le due carte perfette Eh sì E vabbè Noi usiamo il nostro Noi non scendiamo Ma compromessi Ce l'abbiamo un mercenario Lo trattiamo con i terroristi Eh che cazzo Ce l'abbiamo un mercenario Nello staff Un soldato Un sicario Un mercenario Parlami un attimo al mic Termina gli hacker Che cosa? Sì si sente a posto No perché dicevano Che non si sentiva Stava abbassato prima Allora Vediamo Abbiamo bisogno di due organizzazioni Ce l'abbiamo Sì Due di queste ce l'abbiamo Sì Eh poi No Ce ne manca uno Cazzo Porca troia Per uno Per un pelo Evento fallito Non si può mai stare tranquilli Mannaggia Non si può mai stare tranquilli Ma coinvolgendo le figure giuste Uscirai anche da questo problema E il mercenario Era la soluzione Porca troia Quindi questa non l'abbiamo completata Al conteggio Oh gioco finisce qui Oh che peccato Ma vogliamo farla Un'altra partita Tutta la notte Facciamo un'altra partita Assolutamente Abbiamo capito Il gioco è più veloce Anche a telecamere spente Ci restiamo qua Fino a domani Ci prepariamo per la live delle 15 Allora abbiamo 6 12 18 24 30 35 Vediamo 35 Allora Vi dico tutte quante le scale Prego Allora da 0 a 14 punti È stato un fallimento Adesso lo sai Ok Da 15 a 20 Ci abbiamo provato Ma non è andata come speravamo Ok E poi 21 25 Iniziamo a vedere la luce Ok quindi Già buono per noi Alla fine 26 30 Iniziamo A performare Noi abbiamo fatto 30 35 Buono Mamma mia Considerate che La scala era a 36 Facciamo un punto in più Quando oltre Cazzo 31 35 Eccolo Siamo col vento in poppa Dai Viva la poppa Viva il vento in poppa Ci abbiamo il vento Ma questo C'è questa C'è bisogno di Una canzone Una canzone Il vento in poppa Abbiamo il vento in poppa Il vento in pompa L'uomo dei microfoni Oh yes Guarda 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 con me E io guarda 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 con te Ma quanto 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 mi diverto Oh yes Dolby digital Con due microfoni anche Grande maestro Le altre per curiosità Allora ci sono altri due step Magari altre canzoni No Gli altri due step Io voglio sentire altre canzoni Non siamo andati male quindi Terzo ultimo Terzo Non è finito È finito È una medaglia di bronzo Per la prima partita C'è stato Hai capito Simone Giovanni è finito Questo è il primo step Ci sono altri due step Sotto sono tre L'altro sono lunghi All'incirca quanto il primo Senti Marco mi fai un attimo Un mindset su Marietta Che legge gli ultimi due In bianco e nero Così poi chiudiamo in bellezza Faccio subito Gli ultimi due step erano È un successo È un successo Da 36 a 40 Noi facendo l'ultimo obiettivo Saremmo andati a più di 40 E quindi Con 41 punti Per un solo Montemagno Con un Montemagno in più Aremmo fatto Siamo al top Ma non ce l'abbiamo fatto Siamo al top è il top Oh yes Oh yes Unitevi ragazzi Sono un gruppo L'ho fatto Vada suoni suoni maestro Noi le veniamo dietro Le andiamo dietro Scusi Ragazzi Grazie mille Per aver visto Per aver visto questa live Che potrei definire solamente Surreale Sì Farei un plauso Surreal power Surreal power Un plauso gigantesco Alla compostezza olimpica Di Meliador E all'estro del maestro Sergio Catena Un applauso Un applauso Un applauso Ai nostri due ospiti La nuova coppia Che rivoluzionerà Che rivoluzionerà 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 Porco Rivoluzionerà Al web Ma hai fatto venire Ci vorrebbe La sitcom Al prossimo Sancerco Non ci butti Non lo faccia Non si butti dal balcone Assolutamente sì Organizziamoci assolutamente Bene allora Grazie mille Ragazzi È stata una live Soltamente folle Abbiamo messo Stato un gioco Orribile E complicatissimo Recensione Una stella su 5 Su Amazon Io mi domanda Io ci ho capito La piccola E qua il consumatore Che si esprime Parola al consumatore Ridaccia Elisor Di Montemaro Questa è la nostra Ricazionazione Ragazzi guarda Non volevamo dirlo Ma adesso noi Rimpacchetteremo tutto E faremo il reso Oppure un falò Perché non ci giocheremo Mai più Perché siamo rimasti Delusi dall'acquisto È vero È stata una perdita economica Per la Sdrubalini Però fatto in live Allora Quindi non faremo il reso Diciamo la verità Diciamo la verità Perché bisogna sempre dire La verità Come insegna Rubino In realtà il gioco Non era questo Questo di Montemagno Il gioco era questa live Un esperimento sociale Sì un esperimento sociale Per capire i livelli Di skill Di Meliador Riuscire Riuscire a condurre Come Matrix Riuscire a condurre Una live Con un gioco Così orribile Così incomprensibile E rimanere serio Quindi Ce l'hai fatta Meliador Ce l'hai fatta Meliador Ce l'hai fatta Meliador Meliador ha letto Le istruzioni Cinque minuti prima Dell'inizio della live Sì è vero La valessa era studiata a casa Vi confesso una cosa La metà delle cose Non le sapevo Quando abbiamo iniziato Piano piano Mentre giocavamo Cercavo di capire Come andare avanti Top Meliador Potrà assisterci Per qualsiasi gioco Sulla faccia della terra Ed era Un ulteriore layer Che voglio aggiungere Siamo pronti a sponsorizzare Qualsiasi gioco A questo punto Cioè Dopo il baratro Non temiamo nulla Esatto Non montemaniamo nulla Questo infatti è stato anche Molto buono Per far vedere Le nostre competenze Potete sponsorizzare Quello che volete Tramite noi Esatto Io prima di chiudere Dare un po' di spazio Al maestro Spegnerei tutte le luci E Per un'esibizione Caliente Caliente Tutto rosso ora Alzami la luce No no Chitano è paranoico Cioè L'ho trovata La banana Ma l'avete tirata davvero Sì sì Cosa è La banana La banana E lui ha tirato La banana L'ha tirato La banana Vada maestro Ci perdono E volata Tipo una Fago la banana La banana Non va bene Tony faccetta nera Solo per te Splende come me Nel sole Per te Nel sole Per me Nel fondo Che hai E brilla In me Tu solo Tu che hai Nel cuore Hai per me Nel sole Brillerai E splende Tra noi Il cerbero Dove sta Il cerbero Dove sta Sta E noi Ci divertiamo Divertiamo E come qua E come qua Eccomi qua E tutti qua Eccolo qua Oh yes Ecco qua Ecco qua Oh yes E merda Dov'è Oh yes Oh yes Ciao ragazzi A domani Grazie Questa deriva E lo Croccia Grazie a tutti Grazie a tutti